Unità 3 Scrivere e telefonare Per cominciare, 3 Uffa, ho tanto da raccontare alla mia famiglia Ma quando chiamano loro dagli Stati Uniti Io ho lezione E quando posso telefonare io Loro dormono Perché non scrivi un'email? Giusto Ma c'è un internet point qua vicino? Certo È proprio accanto all'Odeon Il cinema? Appunto Perfetto, ah no Aspetta, ho anche un altro problema Devo spedire dei libri alla mia ragazza E perché ha un problema? Perché non so come fare Dov'è la posta? Beh, se il pacco è piccolo Forse non è necessario andare alla posta Va in tabaccheria Compri una busta grande I francobolli E poi imbuchi tutto in una cassetta per le lettere Una busta? Ma Non so Sono 4 libri Allora meglio un pacco Almeno credo Devi andare alla posta E chiedere informazioni Ma dov'è? La posta? È vicino al Duomo In via delle Grazie Unità 3 Scrivere e telefonare Per cominciare 3 Uffa Ho tanto da raccontare alla mia famiglia Ma quando chiamano loro dagli Stati Uniti Io ho lezione E quando posso telefonare io Loro dormono Perché non scrivi un'email? Giusto Ma c'è un internet point qua vicino? Certo È proprio accanto all'Odeon Il cinema? Appunto Perfetto Perfetto Ah no Aspetta Ho anche un altro problema Devo spedire dei libri alla mia ragazza E perché è un problema? Perché non so come fare Dov'è la posta? Beh Se il pacco è piccolo Forse non è necessario andare alla posta Va in tabaccheria Compri una busta grande I francobolli E poi imbuchi tutto in una cassetta per le lettere Una busta? Ma Non so Sono quattro libri Allora meglio un pacco Almeno credo Devi andare alla posta E chiedere informazioni Ma dov'è? La posta? È vicino al Duomo In via delle grazie